La Ciliale mantiene così la testa della classifica, ma è stata una partita combattuta, forse sin troppo combattuta, in campo, sugli spalti e anche in un accesissimo dopo partita. I giocatori del Paternò vanno recriminato a lungo per un calcio di rigore che l'arbitro non ha concesso quando le due squadre stavano ancora sullo 0-0. Poi con una rigore la Ciliale è andata in vantaggio ed ha vinto la partita. Alla fine quindi, animi particolarmente surriscaldati e questa è la reazione di Morana, allenatore del Paternò. Il Paternò si è fatto le sue gare in modo abbastanza brillante. Abbiamo perso domenica a Palermo contro la Palermo Limpio per un calcio di rigore sacrosanto. Proprio in quella circostanza nessuno ha parlato o ha preso scusanti. Oggi abbiamo perso per un altro calcio di rigore, per l'arbitro sacrosanto, forse effettivamente sacrosanto, però niente, abbiamo perso l'arbitro. Però c'era un rigore a favore vostro? Non intendo più parlare perché sto entrando in me dalla gara che non ci voglio entrare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.